L'evaporazione entra nel bilancio di energia, così come entra nel bilancio di massa e così come entra nel bilancio di quantità di moto. Nella lezione precedente quello che abbiamo visto è come entra nel bilancio della quantità di moto. La formulazione che noi abbiamo ottenuto è una formulazione semplificata che però ci permette di ottenere una forma chiusa anche molto trattabile, che è l'equazione di Dalton. Qualcuno mi fa una domanda? Non girano le slide. Ah sì, ma non ho girato nessuna slide. Sì, in questo momento, ok, adesso girano. Ditemi se non girano. No, no, girano, girano. Ok. Quindi, in quale modo entra nel bilancio di energia? Beh, uso di solito questa metafora, no? Una delle formule più famose della fisica è E uguale mc quadro. Che cosa vi dice questa formula? Vi dice che una massa m ha un'energia pari a m per c al quadrato, dove c è la velocità della luce. Quindi è un'enorme quantità di energia. E questa quantità di energia è legata, evidentemente, in questo caso, alla capacità anche di trasformare la massa in qualcos'altro. Per esempio, in luce, nel caso di un... o in altre particelle, nel caso dell'annichilazione fra particelle e antiparticelle. In modo interessante, è anche importante riconoscere che comunque un corpo ha un suo contenuto energetico, che è sfruttabile in certi ambiti. Per esempio, nell'ambito, che è quello che stiamo trattando ora, delle transizioni di fase. Qual è la quantità di energia che è trattabile durante una transizione di fase? Beh, questa dipende, se vogliamo, da una rappresentazione dell'energia interna. Cioè l'energia interna la possiamo rappresentare come una capacità termica per la temperatura. In questo caso qui non è specific thermal capacity, ma sarebbe una C grande, che è la term... cioè oppure nella formula va un U piccolo, che è la specific internal energy, che sarebbe U piccolo, è uguale alla specific thermal capacity per la temperatura, più la specific enthalpy of vaporization, in questo caso per la densità del vapore. Cioè l'energia interna disponibile durante una transizione di fase può essere espressa in questo modo. C'è una dipendenza quindi dalla temperatura e dalla densità di vapore, che in questo caso è espressa come massa su volume, ma questa densità di vapore la potremmo anche trasformare facilmente in vapore, in pressione o in umidità specifica se necessario. Quindi questa è la nostra formula. In questa formula comparano due parametri, uno che è la capacità termica, P specifica, in questo caso per unità di massa, significa, e l'altra è H piccolo, che è l'entalpia per unità di massa. Allora, qual è il bilancio di energia che possiamo scrivere? Beh, il bilancio di energia è una volta assegnata, cioè una volta consolidata l'idea che l'energia del nostro sistema è CPT più H rov, è la variazione di questa U nel tempo e questa variazione di energia nel tempo, che cosa sarà uguale? Sarà uguale all'energia che entra meno l'energia che esce. Qual è l'energia che entra? L'energia che entra è la radiazione prevalentemente nei nostri sistemi idrologici. Poi abbiamo dei termini che sono segnati negativamente e in particolare ho la convezione di energia termica H che abbiamo imparato a calcolare prima. Abbiamo il flusso di calore verso il basso G per conduzione termica, per esempio per colazione di acqua verso il fondo. Abbiamo l'energia e questi ultimi due termini sono computati negativamente, cioè sono computati come energia persa dal nostro volume di controllo, mentre abbiamo computata come energia positiva un'eventuale energia delle precipitazioni, cioè quando noi abbiamo il nostro volume di controllo, vi cadono delle precipitazioni, queste precipitazioni portano con sé un contenuto di energia. e anche perché per esempio le precipitazioni possono essere più calde o più fredde dell'acqua che c'è nel nostro volume di controllo. E poi abbiamo un'altra fonte di energia che è importante che è il stoccaggio di energia nelle piante. Questo stoccaggio di energia nelle piante è generalmente molto piccolo rispetto al bilancio di energia, attorno all'1% del bilancio di tutti gli altri termini che compaiono, ma è estremamente importante perché è la fonte di tutta la vita sulla Terra. E quindi in alcuni casi tenere conto di quel termine è essenziale. Se andiamo a sostituire la forma che abbiamo di U all'interno della variazione nel D U su D T, naturalmente otteniamo C P D T su D T più H D R O V su D T. Ed è questo che è scritto qui. In questo caso il primo termine C P D T su D T è quello che conosciamo, cioè siamo più abituati a vederlo. Il secondo termine non siamo di solito abituati a vederlo, ma questo H rappresenta il calore latente di vaporizzazione, in questo caso oppure l'entalpia di vaporizzazione, che è uguale a 2264 kJ per kg. Per questo termine D R O V D T su D T. E cosa sarebbe D R O V W su D T? Sarebbe la variazione di densità dell'acqua nel tempo, nel volume di controllo. Ma questa è, se stiamo considerando appunto l'evaporazione, esattamente la parte di acqua che se ne va e va a costituire vapore. Quindi questo termine è propriamente l'evaporazione. Dovrei scrivere effettivamente un'equazione. Qui ho pensato l'acqua nel volume di controllo, anche se non ho messo nessun indice, nessun pedice, perché sto pensando all'acqua liquida. Dovrei scrivere un'equazione dello stesso tipo per tenere conto del vapore. Avrei un'equazione assolutamente analoga per il vapore in aria o comunque per l'aria. Il secondo membro rimane inalterato. E posso quindi portare questa espressione, che a questo punto chiamo lambda e T, al secondo membro e diventa un termine nel bilancio di energia, che in realtà prima era nascosto nel bilancio di energia interna e quindi non si vedeva. In questo secondo membro che cos'ho? Intanto ho RN, la radiazione netta. Qui è la somma di due RS, ma uno dei due RS in realtà sarebbe una RL, cioè una radiazione RS, la short wave radiation, la radiazione ad onda corta, la radiazione solare, quella che noi vediamo con i nostri occhi, fuori dalla finestra e una RL che è la radiazione ad onda lunga, composta prevalentemente in due bande, perché la radiazione che ci proviene dal Sole ha una certa lunghezza d'onda media, mentre la radiazione che viene riflessa dalla Terra e dai corpi in funzione della temperatura che hanno ha una certa altra frequenza media che dal nostro punto di vista è nel campo dell'infrarosso. Poi ho dei termini di avvezione o di stoccaggio che sono i termini legati alle precipitazioni e allo stoccaggio nelle piante. Poi ho dei termini che sono legati alla convenzione termica che sono appunto la quantità di calore latente e di calore sensibile, calore sensibile H, calore latente, lambda e T, o in generale le quantità di energia che sono trasferite mediante trasporto turbolento. Perché compaiono A e B? Perché in questo caso non ho fatto, finora non ho fatto nessuna distinzione su come sono fatte le superfici. Ma per esempio pensate ad una foglia. Se è una foglia ad emettere calore, la foglia emette calore da due superfici, la superficie superiore e la superficie inferiore. Pensate invece ad un piano come può essere la superficie del suolo. In questo caso l'emissione di energia termica per convenzione avviene solo da una parte e quindi nella direzione verso l'alto, dal suolo verso l'alto, non dal suolo verso l'alto, dal suolo verso il basso. E quindi in questo bilancio devo anche introdurre dei termini che tengono conto di come sono fatti i volumi che io sto considerando. Nel caso in esame, per esempio, A è 2 per le foglie, 1 per i suoli, B è 1 se le foglie hanno gli stomi da una parte e 2 se li hanno da tutte le due parti e 1 per i suoli e così via. G abbiamo detto è il calore verso il basso. Questo di solito avviene per conduzione attraverso il suolo, attraverso il suolo, il sottosuolo. è segnato con un termine negativo, però può essere anche positivo perché in realtà la Terra è vivo, come pianeta, e quindi del calore dal centro della Terra, dal nucleo caldo della Terra, risale in superficie. Se noi guardiamo nella stratigrafia la temperatura, questa temperatura ha variazioni molto rilevanti sulla superficie in cui per esempio può essere un flusso netto dalla superficie verso l'interno nei primi strati. Però in profondità certamente è il flusso dal centro della Terra verso l'esterno che è più importante. Quindi in questo caso il segno del flusso dal centro della Terra verso la superficie sarebbe una G negativa che complessivamente darebbe un termine positivo. E poi appunto ci sono le parti di chemical energy che sono quelle contenute nella vegetazione complessiva. la vegetazione l'avevo messo anche nell'avvezione e quindi l'ho spaccata in due termini. Rispetto all'interpretazione le prime sono sorgenti di energia e le altre sono prevalentemente dal nostro punto di vista degli estrattori di energia cioè dei sinks. Se abbiamo dei volumi che sono in condizioni stazionarie o che sono in condizioni stazionarie significa che dt su dt è uguale a zero. e quindi il primo termine dell'equazione scompare dell'equazione scritta in basso scompare. Un altro modo in realtà per avere questi termini diversi, questi termini non considerati è considerare che per esempio se cambia la radiazione se aumenta la radiazione sopra di noi immediatamente istantaneamente il nostro corpo si adatti alla nuova radiazione cambiando la sua temperatura. in questo caso il dt su dt è zero praticamente ovunque salvo nel momento in cui cambia nel momento in cui cambia la forzante si chiama esterna quindi posso in certe condizioni porre questo dt su dt uguale a zero se la capacità termica si compie piccola cioè se io penso che l'adattamento della temperatura alle forzanti esterne è istantaneo e questo è spesso il caso è spesso il caso e noi considereremo questa condizione. Se questo avviene nelle equazioni precedenti il termine a sinistra diventa a zero e tutti gli altri sono ugualiati a zero. Una forma in cui gli altri termini sono presentati spesso è questa in cui viene portata la radiazione a sinistra cioè la principale sorgente di 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 energia a sinistra mentre i sinc tutti a destra eccettuato per il fatto che qui non sono presenti i termini avvettivi perché di solito non se ne tiene conto nei ragionamenti che si fanno anche se in alcune condizioni sono assolutamente di primaria importanza ma per quel che riguarda le discussioni che faremo in seguito i termini avvettivi sono trascurati. L'equazione quindi anche in questa forma e in questa forma imprevalentemente è estremamente semplice addirittura è un'equazione algebrica tra i vari termini ben inteso noi poi non è che sappiamo bene come calcolare questi termini perché ci mancano delle variabili di lambda e t e anche di h grande abbiamo trovato delle espressioni sugli altri due termini dobbiamo eventualmente ragionare questa è una rappresentazione di che cosa succede quando nel bilancio di energia cioè questa è un'equazione ma il nostro di volume di controllo per esempio ha questa complessità per cui io prendo la mia radiazione solare grafico che da solo mi implicherebbe delle ore di lettura e vi invito anzi a farla ma quello che succede è che la radiazione solare è il motore di tutto alimenta le piante in parte viene riflessa in parte viene intercettata dalla biomassa delle delle chiome o delle canopies in parte viene restituita come qui vedete heat and evaporation e 41 più 42% fa 83% più quella riflessa in questo caso che è del 15% 83 più 15 fa 98 l'altro 2% è la parte di energia che viene utilizzata sotto varie forme dalle piante e poi questa energia viene ulteriormente suddivisa nelle varie componenti biologiche che compaiono che compaiono qui dai detriti fino ad essere restituita completamente al ciclo idrologico quindi in questa equazione al ciclo dell'energia questa equazione è in realtà anche scritta così estremamente estremamente complessa nella pratica questo in realtà sono stato molto sorpreso di questa quando l'ho vista per la prima volta questa figura e mi sono chiesto come Goz avete fatto a calcolare tutti questi termini l'articolo di Goz è un articolo che è apparso sulle scienze ve lo posso allegare dal mio punto di vista alla fine compaiono delle leggerezze nel senso che dà per scontato che il calcolo di alcuni flussi di quelli che sono rappresentati anche dei flussi idrologici il calcolo dei flussi sia facile da ottenere cosa che non è e quindi questo se vogliamo mina un po' la base i valori che sono qui rappresentati in questa figura in particolare i valori più piccoli però il ragionamento complessivo è certamente corretto un altro tipo di bilancio di energia quando si va a esplicitare su un volume di controllo è per esempio questo qui in realtà è rappresentato in maniera nascosta anche il bilancio di massa il caso della neve in cui ho la radiazione che colpisce la neve in parte viene riflessa in parte viene assorbita e questa radiazione ha come effetto lo scioglimento della neve anche sulla neve abbiamo abbiamo un'azione dei flussi di calore latente di calore sensibile e vari scambi per conduzione con con gli elementi sottostanti tutto questo per mostrarvi che il bilancio di energia nonostante sia una formula estremamente semplice poi diventa estremamente complicato nel momento in cui noi lo dobbiamo calcolare ad un volume di controllo reale perché lo dobbiamo in teoria suddividere nei vari elementi in cui questo si compone introducendo dei cicli dei sottocicli che non è sempre facile individuare in maniera e soprattutto misurare in maniera corretta e modellare non ne parliamo quando un difetto dei due immagini precedenti è che sono su una topografia completamente piatta quando la topografia si fa più complicata e questo per esempio è una rappresentazione del bacino del lago della Serraia in prossimità di Pine e il lago della Serraia lo vedete qui in rosso in rosso perché emette un sacco di calore latente qui ci sono anche gli effetti della topografia cioè che sono legati sia alla quota perché al variare della quota la radiazione viene recepita in modo diverso la radiazione ha meno strati di aria da attraversare e quindi è meno diminuita nelle quote più alte rispetto alle quote più basse ci sono effetti legati all'orientamento della topografia evidentemente in funzione dell'orientamento ricevono luce diversa e quindi sono posti in posti in rispetto al bilancio di energia in modo diverso cioè calcolare la radiazione in questo ambiente non è affatto banale in questo caso ci sono anche degli effetti secondari di cui non avremo forse tenuto conto che sono legati al fatto che il suolo è di dimensioni diverse su questo suolo è pensato essere stabilito su uno strato un substrato roccioso più o meno conducibile e contenere quindi più o meno acqua a seconda della sua struttura della sua tessitura e anche della sua dei profili che compaiono quindi in dipendenza dal fatto che qui ci sia acqua non ci sia acqua cambia completamente il bilancio idrologico perché cambia in questo caso la capacità termica del suolo con acqua senza acqua quindi qui ci sono come si vede calcolare il bilancio di energia non è affatto semplice quando noi lo andiamo a fare nei casi reali dovremo in teoria tener conto di tutti questi elementi ci sono delle domande